In una nota diffusa dal Quirinale al termine dell'incontro avuto da Giorgio Napolitano con la delegazione del PDL guidata da Angelino Alfano, si sottolinea che il Presidente della Repubblica ha espresso il suo vivo rammarico per i riaccendersi di tensioni e contrapposizioni tra politica e giustizia. Rammarico in particolare per quanto è accaduto in una manifestazione politica senza precedenti all'interno del Palazzo di Giustizia di Milano. Il Capo dello Stato nel fare appello a un comune e generale senso di responsabilità perché non appaia messa in questione la libertà di espressione di ogni dissenso, l'autonomia e l'indipendenza della magistratura ha auspicato un immediato cambiamento del clima venutosi a creare. Intanto dal PDL Angelino Alfano, Fabrizio Cicchitto e Maurizio Gasparri precisano che Napolitano ha ascoltato con grande attenzione le loro preoccupazioni per i rischi che sta correndo la democrazia italiana e di fronte a questi rischi il popolo della libertà continuerà a esprimere con tutte le forze di cui dispone le proprie ragioni e a difendere la propria storia e quella di Silvio Berlusconi.